Perchè? Ah no, lei non lo sa. Non lo sa, non lo sa. Perchè? Davide, mi raccomando. Vai Davide! 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 Proficiat in Boca! Boca neus van ons! Allee allee! Proficiat in Boca! Proficiat in Boca! Proficiat in Boca! Voi d'avide! Voi d'avide! Voi d'avide! Proficiat in Boca! Voi d'avide! Voi d'avide! Voi d'avide! Voi d'avide! Voi d'avide! Grazie a tutti.